Partiti. In vantaggio si porta Absolute Value con all'esterno Regina di Quadri, poi Mariscos seguito all'esterno da Emperose, poi ancora Bengalumun, Shorty per nulla con in coda Big Gina. Cavalli ora prossimi all'imbocco della curva di fondo con Absolute Value in vantaggio nei confronti di Regina di Quadri. In terza posizione si è sistemata Emperose a precedere Bengalumun, quindi Mariscos, Shorty per nulla e Big Gina in coda. Posizioni invariate lungo l'arco della curva con Absolute Value deciso leader tallonato sempre da Regina di Quadri, i due precedono Emperose in anticipo su Bengalumun, quindi Shorty, Mariscos, Big Gina e per nulla. Siamo in retta d'arrivo, Absolute Value sta allungando nei confronti di Bengalumun, quindi per nulla. Poi Regina di Quadri per linee interne Shorty, siamo a 400 dal palo con Absolute Value in vantaggio nei confronti di Bengalumun, quindi per nulla più indietro Shorty e Big Gina. Sta passando Bengalumun nei confronti di per nulla che ci prova nel finale Bengalumun e in chiaro vantaggio e si impone chiaramente, mentre per il terzo posto Big Gina a Pariglia sul palo, Absolute Value. Andiamo a rivedere la bella affermazione di Manuel Porcu in sella Bengalumun, numero 5 dello schieramento che ha allungato nel finale per prendere chiaro vantaggio ed imporsi sul traguardo. Al posto d'onore chiude il numero 9 di per nulla, mentre per il terzo è stretta la foto tra Absolute Value all'interno e Big Gina a largo e quindi per sapere il terzo posto bisognerà aspettare il risponso del giudice di arrivo. Grazie a tutti.